raga stamattina in cucina c'è una perla guardate che spettacolo dai con sta perla allora Gildanè che stiamo a fa' qua? dice tutto facciamo dei rotolini di carne ecco qua andiamo a vedere allora queste sono fettine da fanpadella eccole qua va bene? ecco fatto aspetta mettiamolo per così e via adesso facciamo un rotolino di carne ecco fatto no non mi piace rigirata della questa mi piace più rigirata così ecco fatto ecco ma trovate il verso eh raga? eh sì certo non mi devono rimanere i buchi eh allora gli diamo una martellatina così si intenerisce si intenerisce ancora di più e facciamo tutta una fetta unica allora queste sono quattro belle fette grandi tagliate fine va bene? piuttosto fine ecco adesso inteneriamo ancora di più allora adesso ci mettiamo la prima cosa un po' di pepe ecco fatto allora queste so come piacciono a Barbara ecco fatto che vuoi dica a fare raga? vuoi vedete che ricettina cagliarda? un po' di sale un pochettino di sale ci vuole eccolo qua levamolo allora adesso ci mettiamo questa è scamorza che io ho tagliato tutta a julienne vedete? si è divertita a fare i ricciolini eh sì non mi andava di stare a tagliare vabbè no ma questa la grattata dai ha fatto prima grattata è meglio grattata grattugiata eccola qua allora adesso metto quattro belle fette di prosciutto cotto ecco qua eh allora la scamorza è una intera io penso di mettercela tutta comunque non vediamo ecco fatto tanto se rimane non si spreca ma che si spreca allora qui invece ho questi erano 250 grammi di funghi che io ho tagliato tutto a pezzettini e poi l'ho cotti così in padella con un pochettino d'olio va bene? e adesso va bene cara li mettiamo qua è un pochettino d'olio e ci ho messo pure un pochettino poco a poco a poco di cipolla allora adesso mettiamo un altro po' di scamorza eh ecco fatto voilà ecco fatto ok allora allora adesso arrotoliamo piano piano eh questo cerco di mandarlo dentro perché sennò esce tutto fuori eh allora questo è un bel rotolone eh mamma mia che sfilatino regà eccolo qua allora adesso faccio delle girelle eh girellone più che altro eccole qua guardate che belle vabbè eccola qua eccola già l'ho tagliata questa eh che delizia già mi immagino cotte io mamma mia ecco qua guardate che bella vedete queste si cociano in dieci minuti proprio dieci minuti eh oggi poi mi ha fatto il colipieno che mi piace tanto mamma mia girterè allora adesso nell'olio eh eccole qua olio caldo allora io ho messo olio extra adesso a fuoco bello ardente lo facciamo lo facciamo eh lo facciamo che è mi sta guarda tutta perplessa regà che è successo gira regà fatta andiamo bene che è le facciamo girare le facciamo girare dai 7-8 minuti di qua e 7-8 minuti di là va bene va bene ecco mi raccomando fuoco bello alto eh allora la scamorza che mi è rimasta alla fine io ho messa sopra tanto queste mo sono cotte faccio squagliare e poi sono pronte va bene mamma mia si va bene non sprechiamo niente niente si deve sprecare ecco allora io l'ho fatta cuocere 7-8 minuti da una parte poi l'ho girata e ho fatto altre 7-8 minuti e adesso ho messo la mozzarella sei sciolta e queste già sono pronte va bene gildarella del nostro cuore amoruccia nostra dai diraci un bacetto gildarella dai allora eccole qua pronte guardate che belle allora adesso ecco fatto guardate una e due a me ecco questa questo è il piatto suo e poi ci mettete un po' di sughetto che terribile le più grosse se le era pizzate da una parte un po' di sughetto ecco queste le servite così ragazzi guarda un po' mamma mia quel sughetto una bella scarpetta questo ci vuole perché ammorbidisce io ce lo lascio apposta la carne ecco poi vabbè fate come vi pare se non ce lo volete non ce lo mettete e se no fate come volete con queste girelline i vostri bambini vi daranno tanti bacetti ragazzi eh no fategliele tiè guarda un po' fatele perché sono proprio buone guardate lo dico lo dice se sono buone certo che sono buone vai ecco qua ecco qua ecco questo è famo pure ripiene in un altro modo questo però è ripieno che mi piace tanto a me guarda un po' ragazzi ho l'acquolina in bocca mamma mia ecco la faccio rivedere come come mmm buone poi guardate che belle che so guarda abbiamo un fungo a forma di cuore eh va bene amori ecco allora adesso perfette se la mamma mia le vanno tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda li amo tutti e lo sapete è piatto ricco è piatto ricco mece ficco ooo ooo Grazie a tutti